Ok, il titolo del mio messaggio questa sera è Oltre ogni limite e se vi dicessi una parola paura vi è familiare oppure no? Tutti quanti abbiamo delle paure dentro di noi ci avete fatto caso? Paura del domani, paura di riuscire, paura di non essere all'altezza paura di non farcela, paura di restare senza soldi paura di predicare, paura di parlare paura di confrontarsi con gli altri tutti quanti abbiamo delle paure ma lo Spirito Santo ci chiama ad andare oltre questi limiti perché la paura è un limite per la tua vita è un limite per la mia vita e Dio ci chiama ad andare oltre la paura è una brutta bestia la paura che dobbiamo sgozzare, scannare dobbiamo metterla fuori dalla nostra vita perché la Bibbia dice che Egli, Cristo non ci ha dato uno spirito di paura ma bensì Egli ci ha dato uno spirito di forza lui ci ha dato uno spirito di coraggio di determinazione, di timore dall'Eterno e quindi Dio non ci ha dato uno spirito di paura quindi tu devi affrontare la tua paura e metterla sotto i tuoi piedi e dire alla tua paura Dio non mi ha dato la paura mi ha dato uno spirito di forza mi ha dato uno spirito di autocontrollo mi ha dato uno spirito di forza mi ha dato uno spirito di coraggio non mi ha dato paura Perché la paura ti tiene bloccato, ci tiene bloccati, la paura ci tiene entro i confini, la paura non ci permette di andare avanti, la paura ci permette di rimanere bloccati se non portarci sempre più indietro. Allora dobbiamo tutti quanti affrontare la paura, ognuno deve affrontare la propria paura perché in alcune aree tutti quanti noi abbiamo delle paure e dobbiamo affrontarle, non scappare né andarci a nascondere in una caverna perché c'è paura del domani. La Bibbia dice, Gesù disse, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati, sta dicendo che non accadrà niente di strano nella tua vita perché tutto quello che dovrà accadere nella tua vita per Dio non lo impressionerà perché Dio sa tutto dall'inizio alla fine. Così noi dobbiamo riposare nel Signore e camminare per fede, non per paura. La paura cosa fa? Vi elenco alcune cose. Porta le persone a sotterrare il tesoro di Dio che Dio stesso ha messo dentro di te. La paura rende le persone disubbidienti alla chiamata di Dio. Mosè cosa fece? Signore io non sono un parlatore. Manda qualcun altro. Aveva paura di affrontare il faraone. Se io andrò là, farà una cosa? La messa mi dirà. E Dio gli ha detto, io sono, ti mando. E manda qualche altro. Era talmente la paura che balbettava. La paura di rispondere alla chiamata di Dio. Non sono capace. Oggi mentre meditavo su questo ricordo alcuni fratelli che ho motivato ad andare avanti nella fede. Ho motivato a spingersi avanti, ad uscire dalla barca, ad uscire dal luogo di comfort. Ma hanno preferito rimanere nel luogo di comfort, rimanere nella paura, rimanere in quell'ambito. Perché l'ambito dove vivono, tante volte dove viviamo, ci dà sicurezza. E oltre non vogliamo uscire. Stiamo qua bene. Mi sto, parlo con me stesso. Sto bene con me stesso, ma non voglio parlare con gli altri. Mi confronto con me stesso, ma non mi voglio confrontare con gli altri. Preferisco stare nel mio luogo di comfort perché mi fa star bene, mi dà comodità. Mi dà sicurezza. Ma Dio ci chiama tutti quanti a andare oltre il luogo di comfort. Qualche due anni fa ho fatto una predicazione, proprio un mercoledì. Esci dal tuo luogo di comfort. Ci sono posti di comfort dove ti fa star bene. È come dire, compri una bella poltrona, confortevole, stai là, rilassato, quando dovresti andare a evangelizzare. Quando dovresti pregare. E quindi ti conviene stare in quella poltrona che è confortevole. Wow, che bello, che comoda quella poltrona. A volte ci sono gli ambienti. A volte diventa anche la chiesa, l'ambiente che noi frequentiamo, un luogo confortevole. O se vado in chiesa d'estate perché c'è fresco, vado d'inverno perché c'è caldo e come quando andiamo c'è tanto caldo, cosa facciamo? Andiamo al centro commerciale che là si sta bene, c'è fresco. E quindi è confortevole andare al centro commerciale perché tu non paghi niente, godi dell'aria condizionata, stai al fresco, non soffri, ti fai una passeggiata e quando raffresca il tempo è l'ora che cala il sole. Tu esci dal supermercato ed esci dal centro commerciale e te ne ritorni a casa. E fai risparmi a casa la corrente ed entro nel centro commerciale e c'è qualcuno che paga con te, è confortevole. E vai girando tutti i negozi e fai tutto il giro. Giri la prima volta, giri la seconda volta, giri la terza volta e ti scansi quella che è la temperatura alta d'estate. Ma se Dio un giorno dovesse mandarti nel deserto, non sei abituato a sopportare il caldo. Allora Dio tante volte ci prepara prima perché noi dopo possiamo affrontare le sfide e le difficoltà. Ma a volte ci sottraiamo dalle difficoltà, dai problemi per la paura, per l'insicurezza, ci troviamo un luogo di comfort, sto qua che sto bene, mi trovo a mio agio. Oltre questo confine non vado, oltre queste mura non vado, oltre questo recinto non vado, è come i cavalli che stanno dentro un recinto. Sono confinati e a volte noi siamo confinati dentro un recinto per paura di uscire fuori e di scavalcare il recinto. Amen? C'è queste paure innate in ciascuno di noi. Io ricordo quando eravamo a Palermo e cantavamo quel canto che diceva mandami alle nazioni, ma andami. Dio non mi ha mandato alle nazioni, ma quando sono dovuto uscire da Palermo avevo delle paure. Ho cambiato solo città, non nazione. Quindi si parlava la stessa lingua, si parlava l'italiano, non si parlava un'altra lingua, si parlava l'italiano, ma c'erano delle paure dentro di me. E quando andrò là, come sarà? E chi troverò? E il lavoro ce l'avrò? E la casa la troverò? E le persone mi ameranno? E ci saranno persone che mi abbracceranno? Ci sarà un pastore? Ci saranno fratelli? Ci sarà una chiesa? Mi facevo tante domande e pensavo di sottrarmi alla chiamata di Dio perché avevo paura di affrontare le novità. E a volte noi non rispondiamo alla chiamata di Dio per paura di affrontare le cose nuove. E la Bibbia dice ecco io sto per fare una cosa nuova. La riconoscerete voi? A volte non la vogliamo riconoscere per paura. E quindi ci sottraiamo alla chiamata di Dio per paura delle novità, delle cose nuove. Le cose nuove portano sempre una forma di paura, di insicurezza. Ma noi dobbiamo affrontare la paura, dobbiamo affrontare l'insicurezza e dobbiamo fidarci di Dio che Lui è il nostro Padre. Perché la Bibbia dice io camminerò davanti a te e quando Dio chiama qualcuno per andare, Dio manda, Lui cammina prima avanti. Ma quando non abbiamo questa dimistichezza, questa confidenza con Dio, quando non lo conosciamo, subentrano le paure. I giovani devono affrontare un esame, hanno paura perché sanno di non avere studiato, perché sanno di non avere studiato abbastanza. E quindi cosa fanno? Hanno paura di affrontare gli esami. E di conseguenza iniziano a non dormire la notta per paura se mi interrogano su questo, su questa materia, su questo argomento, su questo. Ma se si è applicato nello studio, cosa accade? Sicuro, dice, qualunque materia mi interrogerà, io andrò fiducioso perché ho studiato, perché mi sono applicato, perché so le materie che trattano e di conseguenza andrò tranquillo. Ma se uno non studia, ovviamente, subentrano delle paure. Dice, chissà quale materia, la notte non si dorme. Certo, i giovani dovrebbero studiare tutto l'anno per arrivare poi a fine anno a presentarsi agli esami dove possono prendere dei voti eccellenti e possano dimostrare che sono ragazzi di Dio e ragazze di Dio. Chi orecchie da udire dice la parola di Dio, Oda. La paura indusse gli israeliti nel deserto a disprezzare la chiamata e la cura di Dio e a chiedere a Dio a gran voce di ritornare in Egitto. Vi ricordate che quando il popolo di Israele si trovò nella prima difficoltà nel deserto, malgrado Dio gli aveva detto che lui si sarebbe preso cura di loro, del popolo, cosa fecero nel deserto? Ritorniamo in Egitto, è meglio per noi ritornare in Egitto. Ascolta, non dire mai è meglio gli amici che avevo prima di conoscere Cristo. Non dire mai dove vivevo prima di venire a Cristo era meglio la vita. Non dire mai quello dove io stavo era meglio. Io ringrazio Dio per Palermo, io ringrazio Dio per la Chiesa, ma per me il posto migliore, almeno per il momento, è qua. E il posto dove Dio mi ha messo, è il migliore posto per me che possa esistere, è qua. Non disprezzo Palermo, non disprezzo la Chiesa dove sono nato, dove sono cresciuto, dove mi hanno curato, mi hanno ammaestrato, dove mi hanno sopportato, dove mi hanno fatto di tutto, ma ringrazio Dio ora che sono qua perché desidero essere al centro della volontà di Dio. E con tutte le sfide e le difficoltà non voglio tornare indietro, non voglio tornare in Egitto. Non ho mai pensato, gli amici prima di conoscere Cristo erano migliori, mi comprendevano, ma ho cercato sempre di andare avanti, andare oltre quello che è il comfort, la sicurezza. Fu la paura che indusse i discepoli a scappare lontano da Gesù. Fu la paura che indusse Pietro a rinnegare Gesù. Ora vorrei vedere a noi cristiani se entrasse qua, entrassero due o tre persone con le mitragliette. Chi siete qua? Siete cristiani? Lo vedremo un po' più avanti. Lo vedremo un po' più avanti. Non quando entreranno con le mitragliette, ma prove di un livello più basso. Quando accade il primo problema, la prima persecuzione, dobbiamo vedere se noi siamo pronti ad andare avanti o ci tiriamo indietro. Se sei attaccato nell'area della salute o nel matrimonio o nelle finanze o nel lavoro, dobbiamo vedere se continui a servire il Signore, se continui ad andare avanti. Se quando tutti gli altri ti lasciano, parlano male di te, ti perseguitano, bisogna vedere là, mentre stai attraversando la persecuzione, se continui ad andare avanti oppure no. O se sei limitato fin tanto che i fratelli mi apprezzavano, io vado avanti. Adesso i fratelli non mi apprezzano più e io non vado avanti. Servivo il Signore fin tanto che le cose mi andavano bene, le cose mi stanno andando male e non servo più il Signore. Ho perso il lavoro e quindi Dio non ha risposto alla mia preghiera del lavoro e di conseguenza non vado più in chiesa. È come se facessimo una ripicca a Dio. Ma un credente va oltre quello che è i limiti e la razionalità umana. Quindi la paura non ci deve scoraggiare. Noi dobbiamo andare avanti. Ho timore se mi espongo al rischio e poi Dio non provvede per me. Io ricordo una volta quando dovevo iniziare qua a Udine, ricordo mentre stavo pregando, era a casa, il posto, dicevo Signore ma tutto questo come avverrà? E lo Spirito Santo mi mostrava sempre una scritta, coraggio, coraggio, coraggio. Pregava e lo Spirito Santo mi dava una visione e mi diceva coraggio, coraggio. Così sono andato a fare una ricerca cosa significa coraggio. Ho detto Signore ma cosa significa questo coraggio? Perché a volte noi diciamo dai ci vuole coraggio nella vita. Ma cosa significa la parola coraggio? Vi do qualche definizione. Capacità di affrontare con forza d'animo situazioni pericolose. Il coraggio è la forza d'animo di affrontare situazioni o difficoltà pericolose. Dove devi mettere a repentaglio la tua vita. Un'altra definizione è capacità di intraprendere azioni difficili. È il contrario della paura. La paura ti paralizza, il coraggio ti fa andare avanti al di là delle situazioni difficili che ci sono. Dio ti chiama e subentra la paura. Se Dio oggi chiamasse Emanuele e gli direbbe Emanuele vai in questa determinata città e non c'è una chiesa perché io ti voglio usare non gli dice che sarà un pastore, non gli dice che sarà un profeta, non si dice che gli sarà un leader ma gli dice che lo vorrà solo usare, forse per pulire le strade. Subentra la paura. Se poi inizi a salire di livello e ti voglio usare perché io voglio fare una chiesa attraverso di te subentra la paura e se le persone non rispondono allora vado vicino dove ci sono credenti che stanno male. Per mancanza di coraggio dell'affrontare situazioni difficili a volte perdiamo la chiamata di Dio e compromettiamo la chiamata di Dio. Il coraggio ti porta ad affrontare situazioni difficili e il popolo di Dio è un popolo coraggioso è un popolo che sa affrontare le sfide non è un popolo che si mette la testa sotto la sabbia e i piedi restano fuori non è un popolo che scappa dalle situazioni difficili il popolo di Dio è un popolo che affronta sfide e difficoltà che affronta momenti di carestia affronta problemi, affronta sfide affronta pericoli l'Apostolo Paolo dice che aveva passato grande difficoltà naufragi battuto, in carcere, in mezzo a falsi fratelli ha attraversato cose di ogni genere eppure andò sempre avanti e io credo che dovremmo imitarlo tutti quanti noi a Paolo è stato un uomo come tutti quanti noi quindi il timore di espormi la paura tante volte di espormi mi porta anche a dubitare di Dio e se Dio non dovesse provvedere per me e se Dio non si prende cura di me e se questa non è la volontà di Dio e se non è il posto giusto e se questa non è la verità cosa facciamo? limitiamo la nostra vita limitiamo di rispondere alla chiamata di Dio e blocchiamo e paralizziamo la nostra vita per la paura quando Dio chiamò Mosè, Giosuè e Gedeone a fare qualcosa di grande per lui l'unico enorme ostacolo che si frapponeva tra Dio e loro era la paura Mosè disse chi sono io? Gedeone chi sono io? sono il più piccolo di tutta la mia casa e quindi cosa accade? ragazzi vi chiedo la cortesia state seduti quando si predica perché c'è molta distrazione le persone che vanno perché ci si distrae vedo le persone che guardano tutti perdendo una parola non te la prendere perché non sei solo tu ma ci sono diversi perdendo una parola è perso tutto il filo del messaggio è importante perché è qualcosa che lo Spirito Santo sta seminando nei nostri cuori è qualcosa di eterno perché questo è un messaggio se non l'hai capito profetico dove lo Spirito Santo sta depositando perle preziose prima che noi affrontiamo delle sfide e delle difficoltà Dio ci parla prima che le cose avvengano e noi domani che le cose avverranno non possiamo incolpare a Dio di qualcosa che Dio non ha fatto perché Dio ci parla questa mattina parlavo con un fratello una coppia dicevo Dio ci parla prima che le cose avvengono e quando noi ci spostiamo continuamente perdiamo una parola abbiamo perso tutto il filo del messaggio di quello che Dio vuole dire io vi dico questo perché io Maurizio Longo sono una persona che quando andavo in chiesa e ricordo mi metto la mascherina così ve lo spiego meglio ricordo in particolar modo stavo facendo un lavoro ad un'autorità della chiesa un fratello che era in responsabilità un supervisore e questo supervisore la domenica aveva l'abitudine puntualmente di venire a trattare con me mentre io stavo ascoltando la parola di Dio e lui veniva passava che girava veniva da me e mi diceva fratello allora com'è andato io sapete come gli rispondevo mentre lui era accanto a me io stavo zitto dopo parliamo non aprivo neanche la bocca gli facevo senno dopo me lo dici intanto il pastore sta parlando con me perché quando il pastore predicava era Dio che stava parlando alla mia vita e non volevo perdere niente di quello che lui diceva perché per me era importante era andato in chiesa per ascoltare la parola di Dio non per fare commercio non per fare per trattare un'impresa un lavoro o i soldi un affare ma era andato in chiesa per ascoltare la parola di Dio perché Dio in quel giorno stava parlando alla mia vita e anche se era una persona in autorità io non mi lasciavo distrarre dicevo dopo intanto il pastore la massima autorità sta parlando per me poi tu mi puoi trattare bene mi puoi trattare male mi puoi perseguitare quello che vuoi ma la massima autorità Dio si sta usando di un uomo per parlare alla mia vita per questo dobbiamo stare attenti a un messaggio perché quando perdi una parola hai perso tutto il contenuto del messaggio ok andiamo avanti Esodo capitolo 3 versetto 1 la Bibbia dice Ormosè pascolava il gregge di Etro suo suocero sacerdote di Madian egli portò il gregge oltre il deserto Esodo 3 1 dice Ormosè cosa stava facendo stava pascolando il gregge e quel giorno c'è stato un appuntamento divino lui si espose oltre il deserto e raggiunse l'Oreb la montagna di Dio ma fin tanto che Mosè stava nel deserto Dio stava nella montagna ma quando Mosè si portò il gregge fuori dal deserto e si spinse verso l'Oreb la Bibbia dice giunse alla montagna di Dio all'Oreb e l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco attirò l'attenzione Dio attraverso un roveto e gli disse ma il roveto non si consumava perché non si consumava perché stava attirando Dio stava attirando l'attenzione di Mosè ma c'era un'azione che Mosè aveva fatto si spinse oltre il deserto allora tu puoi fare una scelta puoi stare nel luogo di comfort o puoi essere spinto ad andare oltre tu puoi stare la domenica a casa voglio che ti parlo franco e ti puoi vedere il culto online ma ti puoi spingere oltre la casa per venire ad ascoltare dal vivo la parola di Dio tu ti puoi stare a casa comodamente e non andare con i fratelli e non stare con i fratelli lo puoi fare tranquillamente ma sappi una cosa che verrà il giorno in cui sarai proibito di uscire fuori e desidererai stare con i fratelli e rimpiangerai quando avevi la possibilità di stare con i fratelli e non ci sei stato Dio parla prima ancora che le cose avvengano versetto 13 allora Mosè disse ora mi sposterò quindi non stiede comodo dice ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo perché mai il roveto non si consuma o l'Eterno vede che egli si era spostato per vedere e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e gli disse Mosè Mosè ed egli rispose eccomi cosa fece Mosè si spostò ci fu un'azione è uscito dal luogo di comfort ha dovuto affrontare la difficoltà ha dovuto affrontare la paura dice mi sposto per vedere questo grandioso spettacolo Dio vuole attirare l'attenzione ragazzi è tempo dove Dio sta dicendo voglio attirare la tua attenzione con qualcosa di spettacolare con qualcosa di glorioso c'è qualcosa che io voglio fare nella tua vita c'è qualcosa di eterno che io voglio fare nella tua vita io voglio attirare la tua attenzione ma prima che Dio attira la tua attenzione tu devi fare un'azione ti devi spostare se io non mi fossi spostato da Palermo ma fossi rimasto rimasto a Palermo perché era bello era comodo era confortevole c'era qualcuno che si si predicava per me per preparare la parola per insegnare c'era qualcuno che mi nutriva quando avevo un problema sa chiedevo una consulenza andava in ufficio mi incoraggiava mi sosteneva mi dava una paccata sulla spalla mi diceva quello che dovevo fare mi dava risposte incontrava i fratelli ci abbracciavamo ma potevo rimanere là e non permetteva a Dio di manifestare la sua opera dove lui la voleva manifestare ma perché Dio poteva fare qualcosa mi sono dovuto spostare ma se noi vogliamo stare in un luogo di comfort sempre e non vogliamo spostarci non accadrà niente Mosè quando vide quello spettacolo prima intanto uscì fuori dal deserto andò nel monte Dio lo attirò con qualcosa di soprannaturale attirò la sua attenzione con qualcosa di soprannaturale e allora dice vediamo un attimino allora Dio ti sta chiamando Dio vuole attirare la tua attenzione non essere distratto o distratta Dio vuole attirare la tua attenzione ma per attirare la tua attenzione devi uscire dal luogo di comfort a volte ci dobbiamo scomodare a volte dobbiamo attraversare il deserto dobbiamo attraversare difficoltà a volte dobbiamo accostarci al monte di Dio dobbiamo entrare alla sua presenza dobbiamo ricercare la sua presenza dobbiamo non cantare ma realmente confessare a Dio Signore voglio di più di Te riempimi tutto di Te niente di me perché fintanto che c'è ancora dell'io dentro di noi Dio non può fare niente devo svuotarci completamente deve togliere tutto quello pietre lo Spirito Santo l'ha cambiato Gesù l'ha cambiato Paolo è stato cambiato totalmente per entrare nel ministerio per entrare nel servizio e così anche noi Dio ci sta chiamando all'attenzione perché vuole svuotarci per fare qualcosa di glorioso e di meraviglioso nella nostra vita e attraverso la nostra vita dice l'Eterno vide che Egli si era spostato sappi una cosa che Dio osserva tutti i nostri movimenti anche quando apriamo il cellulare di nascosto che siamo a casa che non ci vede nessuno oh lo faccio di nascosto perché mia moglie mio marito non mi vede mio figlio mio papà non mi vede Dio ti sta guardando quello che tu stai guardando nel cellulare Lui ti sta vedendo Lui sta vedendo come tu stai cercando il Signore se lo stai cercando Lui vede se la notte ti alzi per cercare la sua presenza Lui vede se la mattina ti alzi presto per andare a pregare Lui vede se tu stai studiando un libro se stai studiando la parola perché lo vuoi conoscere vuoi approfondire la conoscenza nella parola Lui guarda Lui guarda dal cielo coloro che si stanno impegnando e lo stanno cercando la Bibbia dice L'Eterno vide che Egli si era spostato Lui guarda tutti i nostri movimenti tutte le nostre azioni tutti quanti ricordiamoci che Dio è onnipresente ovunque noi siamo Lui è là dice Egli vide che si era spostato per vedere e Dio lo chiamò di mezzo quanto persone Dio sta chiamando in questo momento ma quanto persone Dio sta chiamando in questo momento ma quanti siamo che a volte non rispondiamo a Dio perché abbiamo delle paure delle insicurezze perché vogliamo stare in un luogo di comfort perché vogliamo stare in un posto di tranquillità oh sono arrivato nel posto giusto sono arrivato nella chiesa giusta sono arrivato nella città giusta e cerchiamo la comodità e io credo che ciascuno di noi come figli del padre dobbiamo avere lo stesso sentimento che il padre ha provare lo stesso dolore che il padre prova provare le stesse gioie che il padre prova quando si converte una persona la Bibbia dice che è uno solo che si converte una persona sola che si converte una dice gli angeli festeggiano ma non festeggia la chiesa la chiesa non festeggia quando uno si converte la chiesa è scontato si è convertito uno un altro problema che abbiamo da sopportare in chiesa un'altra difficoltà da affrontare nella chiesa piuttosto che dire wow l'ho strappato un'anima all'inferno no noi abbiamo affrontato una battaglia questa settimana con Pierluigi e Anna Maria vero Pierluigi siamo divertiti abbiamo fatto festa domenica wow ero stanco ho detto no Pierluigi ormai ho dato tanto mi vado a coricare non posso oggi entro nel mio riposo sab domenicano non sabbatico domenicano sono stanco ci siamo seduti in un tavolo con una coppia e c'erano problemi e c'erano difficoltà e lo spirito santo era là e lo spirito santo ci incoraggiava abbiamo preso questa coppia e l'abbiamo portato nel regno di Dio l'abbiamo portato nell'ordine divino ma che mi vale di spendere la domenica pomeriggio di affrontare sfide e battaglie e già abbiamo gioita abbiamo cenato ci siamo rallegrati nel vedere un matrimonio ristorato a volte diamo per scontato una persona si è conviene un altro problema in che sei buono se tu sei sottomesso se tu sei tranquillo allora fai parte fai parte della nostra cerchia ma comportati così perché se ti comporti diversamente ti escludiamo dalla cerchia la Bibbia dice che una persona soltanto che si converte che viene strappato dall'inferno gli angeli in cielo festeggiano e io credo che cielo e terra devono accordarsi o per meglio dire terra e cielo si devono accordare perché il cielo è già accordato ma è la terra che si deve accortare col cielo e noi dobbiamo gioire nel vedere la salvezza delle persone dobbiamo andare oltre il nostro deserto dobbiamo accostarci al monte ora è il bel monto di Dio perché Dio ci chiama perché Dio ci dà le direttive perché Dio ci manda perché Dio ci equipaggia perché Dio ci dà le moltitudine perché noi possiamo strappare anime dal regno delle tenebre e portarlo nella meravigliosa luce di Cristo Gesù ma se non abbiamo il cuore di Dio cari miei se non sentiamo le compassioni di Dio per le persone che stanno morendo ma continueremo a condurre la nostra vita tranquilla il mercoledì il giovedì il venerdì il sabato la domenica io credo che il mercoledì dovrebbe essere un appuntamento divino vieni a prendere il tuo miracolo la domenica vieni a prendere il tuo miracolo fin tanto che abbiamo la possibilità di avere i locali aperti vieni che Dio è un miracolo per la tua vita mi è dispiaciuto mi è dispiaciuto domenica una persona a 70 anni nata da poco ero messo qua qua in questo in questa in questo pezzo di legno qua in questo parquet ricordo il posto mi è venuta ad abbracciare mi stava venendo ad abbracciare gli ho detto mi dispiace non posso ricordo le sue labbra il suo sorriso le braccia aperte così detto mi dispiace non posso ho visto la gioia che ci aveva di una persona nata di nuovo che stava sperimentando la gloria di Dio e siamo stati limitati a dare un abbraccio e nessuno ci deve limitare fin tanto che abbiamo la possibilità di predicare la potenza della resurrezione che è Cristo Gesù Chiesa svegliati svegliati Chiesa Marco capitolo 6 versetto 45 la Bibbia dice che subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire nella barca e a procederlo all'altra riva verso Betania mentre egli licenziava la folla appena l'ebbe congedata salì sul monte a pregare fatto si sera la Bibbia dice la barca era in mezzo al mare ed egli era tutto solo e vedendo i discepoli affaticarsi a remare perché avevano il vento contrario alla quarta vigilia della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli soprannaturale pensate Gesù camminava sull'acqua e discepoli distratti dalle acque Pietro Pietro significa stai attento in italiano Gesù camminava comodamente o c'è un'onda c'è un'altra e i discepoli nella barca facevano così aiuto ma perché Gesù ci ha abbandonato cosa è successo perché ci ha costretti ad andare affrontare questa sfida questa difficoltà ma non stavamo bene dove eravamo perché ci ha detto di passare all'altra riva perché gli voleva insegnare qualcosa di meraviglioso camminare per fede confidare nel Signore avere la stessa fede di Dio e non avere paura ma essi vedendolo camminare sul mare pensavano che fosse un fantasma e si misero a gridare non erano siciliani né napoletani perché non si capiva niente con tanto di rispetto per i siciliani e i napoletani dice perché lo avevano visto tutti e si erano spaventati sai quando perdiamo il focus e noi ci spaventiamo neanche riconosciamo l'opera di Dio e ci sono tempeste che arrivano nella nostra vita e contro la nostra vita per distrarci e non farci comprendere l'opera di Dio né Gesù per questo è importante che ciascuno di noi non ci lasciamo distrarre da niente e da nessuno qualsiasi tempesta si possa battere contro di te nella tua vita nella tua casa nella tua salute nelle tue finanze nel tuo lavoro nel tuo matrimonio nella tua famiglia nella tua discendenza quelli che sono prima di te quelli che verranno dopo di te non deve distrarti niente e nessuna cosa perché nel momento in cui siamo distratti sai cosa viene abbiamo paura qualsiasi cosa ci fa paura una mosca la vediamo un leone una tigre che sta volando una zanzara vediamo un leopardo che viene verso di noi dice videro come se fosse un fantasma e si misero a gridare perché l'avevano visto tutti e si erano spaventati ma egli subito parla loro e disse state buoni ragazzi fratelli care state buoni egli disse non perdetevi d'animo sono io Gesù li rassicurò nel momento della tempesta nel momento di difficoltà Gesù parlò con calma e gli ha detto ragazzi non perdetevi d'animo sono io e Dio vuole dire alla sua chiesa non perdetevi d'animo con tutti i problemi e le difficoltà perché io sono sempre con voi quello che io ho detto io sarò sempre con voi sarò sempre con voi non è Gesù che se ne va sei tu che ti allontani dalla sua presenza sei tu che non senti più la sua presenza sei tu che non vedi più lui ma lui è sempre vicino a te lui è sempre accanto a te lui è sempre per te lui è sempre a tuo favore lui combatte le battaglie con te li combatte per te ma a volte noi perdiamo il focus verso 51 dice poi salì con loro nella barca e il vento si calmò si fece buonaccia tranquillità e quando Gesù non è con noi che noi siamo in agitazione che noi siamo in agitazione e le tempeste le difficoltà i problemi ci fanno distrarre dal vedere Gesù e quando non vediamo Gesù noi non vediamo Gesù ma Gesù guarda noi perché la Bibbia dice che Dio vide che Mosè si stava spostando Gesù vide dal monte che i discepoli hanno difficoltà e Dio se ti dice di passare a un'altra riva di andare oltre i limiti Dio te lo dice perché ha fiducia in te non perché ti vuole esporla di infamia nel pericolo ma perché Lui sa che tu ed io ce la possiamo fare e dobbiamo affrontare la sfida non dobbiamo camminare per paura per insicurezza dobbiamo camminare per fede dice quando Egli salì nella barca il vento si calmò ed essi erano enormemente stupiti e si meravigliavano ma dove erano quando Gesù moltiplicò i panni e i pesci la Bibbia dice prima di questi versetti che abbiamo letto che loro assistettero alla moltiplicazione dei pani e dei pesci videro un grande miracolo passarono poche ore e si dimenticarono del soprannaturale ti è mai successo di vedere qualcosa di sorprendente di soprannaturale dopo un paio d'ore la prima tempesta la prima difficoltà hai dimenticato tutto? perché vi ho detto prima non perdete una sola parola perché una sola parola vi disconnette una sola parola ci disconnette da quello che Dio ci vuole dire e possiamo elaborare un messaggio proprio ma non è il messaggio che Dio ci vuole dare loro avevano affrontato miracoli avevano partecipato a miracoli avevano posto un problema a Gesù ma noi abbiamo pochi pani e pochi pesci cosa dobbiamo fare per queste 4.000 persone? qua ci vuole andare al cittafiera al supermercato ma neanche basta forse tutto quello che hanno dentro per dare da mangiare a queste persone e Gesù ha detto cosa avete? abbiamo pochi pani e pochi pesci portatemi lì qua e Gesù li ha ricompensati con una cesta ognuno si portò la loro porzione avevano visto il miracolo avevano visto cose spettacolari la prima tempesta la prima difficoltà hanno avuto problemi c'era una parola chiara da parte di Gesù passata all'altra rima vi ha spinti oltre e lo Spirito Santo ti vuole spingere oltre i tuoi limiti oltre le tue paure oltre le tue difficoltà ma sappi una cosa che appena ti spingi oltre affronterai le tempeste affronterai le sfide affronterai le difficoltà ma le difficoltà non ti dovranno limitare le difficoltà non ti dovranno penalizzare le difficoltà non ti dovranno bloccare nelle difficoltà tu dovrai andare oltre a invitare Gesù nella tua difficoltà invitare lo Spirito Santo ad affrontare la tempesta la difficoltà perché si manifesta la difficoltà appena tu fai un passo di fede dicevo voglio servire pastore fratello voglio servire il Signore c'è una difficoltà ti mettono l'uno contro l'altro diamo una responsabilità di un connessione affronta i difficoltà affronta i problemi marito e moglie litigano i fratelli si lamentano e quello non va bene quello non va bene quello lo critica vero Alessio ne sei qualcosa tu c'è una sfida e quello ti fa perdere la sfida è l'obiettivo del diavolo per disorientarti è l'obiettivo del diavolo per farti perdere il focus per farti entrare nella paura per dire il pastore si è sbagliato io mi sono sbagliato non sono all'altezza non sono capace non ce la posso fare non arriva a fine mese se do mettici tutto quello che vuoi Dio non mi può operare può operare nella salute dell'altro ma nel mio no nella mia salute no ti destabilizza ma tu devi affrontare le sfide e le difficoltà con Gesù autore e compitore della fede ma se non inviti Gesù nella tua barca e cammini da solo sei in balia delle onde sbattuto dalle tempeste un po' di qua e un po' di là dice perché non avevano capito al versetto 52 il fatto dei pani e dei pesci perché il loro cuore era indurito non per niente Salomone scrisse stai attento al tuo cuore e custodisci il tuo cuore con ogni cura perché dal tuo cuore sgorga la fede sgorga la passione per Gesù sgorga il coraggio sgorga la determinazione la fede di uscire oltre i limiti la fede di andare oltre il luogo di comfort la fede che rischia la fede che osa ma se il nostro cuore è indurito come dire a volte non ci fa la parola non ci fa né calda né fredda è stata bella oggi la predicazione molto bella mi è piaciuta di cose si è parlato un attimo un momento di confusione proprio in questo in questo momento non mi ricordo un momento di confusione prendi un altro discorso perché realmente eri là seduto col sedere nella sedia scusate l'espressione ma spiritualmente era altrove non è compreso e di conseguenza poi cosa avviene ritorniamo nuovamente a compiere le stesse opere infruttuose di prima arriva il problema arriva la difficoltà perché il problema sta arrivando arriverà non ti preoccupare non è lontano è molto vicino a te nessuno mi chiama nessuno mi cerca perché questo problema sai pastore questo tipo affrontalo con Gesù Dio ci sta parlando perché i problemi ci saranno le difficoltà ci saranno le tempeste ci saranno ma la differenza la fa Gesù nella nostra vita se noi siamo aggrappati fortemente a lui se la proiezione è veloce a proiettarmi una foto non è veloce la proiezione a proiettarmi una foto ve la faccio vedere meravigliosa guardate ieri sono stato grandemente benedetto aspetta qua la foto ti serve mandarla aspetta ti devo mandare questa qua l'ho fatta pensando a voi ho detto qualche giorno devo benedire i miei fratelli che verranno in chiesa quelli che sanno fare sacrifici vi mando questa foto e ve la faccio vedere di come bisogna che siamo aggrappati a Gesù te la mando su whatsapp o su email 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 proiezione mamma mia tutti i tecnologici sono qua intanto che loro proiettano poi ve la faccio ve la faccio intanto che sistemo la faccio vedere intanto concludiamo il messaggio nostro padre Abramo ebbe il coraggio di lasciare tutto per rispondere alla chiamata di Dio se Dio oggi ti dicesse lascia la tua casa lascia tutto la tua macchina il tuo camion i tuoi attrezzi i soldi che ti devono dare va nel paese che io ti mostrerò tu dici ma Dio ha chiamato Abramo non a me io mi chiamo Pierluigi non mi chiamo non mi chiama Abramo dice mia moglie si chiama Anna Maria non si chiama Sara quindi Dio si è sbagliato se Dio ti chiedesse oggi lascia tutto e seguimi quanti cristiani sarebbero disposti oggi a lasciare tutto per seguire Gesù quanti avrebbero il colaggio di lasciare figli già adulti di lasciare casa di lasciare casa dopo che hai fatto tanti sacrifici di andare via state attento perché Dio guarda ricordatevi che Dio sta guardando la Bibbia dice che Dio guardomo sai che si è spostato Dio guarda che noi alziamo le mani Gesù dal monte ha guardato i discepoli che si trovavano nella difficoltà pensiamoci bene prima di alzare la mano perché Dio ci conta quando noi diciamo Amen è così sì lo voglio e Dio dice wow farò sul serio nostro padre Abramo ha rischiato tutto ha lasciato ogni cosa per servire Dio e in Genesi capitolo 15 versetto 4 la Bibbia dice la parola dell'Eterno fu rivolta ad Abramo dicendo questi non saranno tu erede stava parlando della carne stava parlando del suo servo fedele ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede Isac ancora nel mondo naturale non esisteva era nel mondo dello spirito per Abramo era impossibile avere un figlio per Sara era impossibile avere un figlio ma non è impossibile per Dio e quando noi osiamo rischiare per lui lui è pronto a fare quelle che per noi sono pazzie ma per lui sono possibilità e quello che per l'uomo è impossibile per Dio è possibile dice questi non saranno tu erede ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tu erede poi lo condusse fuori sposti esci fuori stava nella tenda Dio gli ha detto esci fuori sai a volte cambiare luogo cambiare ambiente ci fa bene ci ispira Dio lo chiamò e gli disse lo condusse fuori e gli disse mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare o se ci riuscirai poi Dio aggiunse così sarà la tua discendenza poi sappiamo tutti come le stelle del cielo la sabbia del mare ma se Abramo rimaneva dentro lui non poteva guardare e non poteva sognare e le stelle che Dio gli mostrò Abramo iniziò a sognare iniziò a avere fede la sabbia che lui vedeva diceva ah tante lui ha creduto nell'impossibile non per niente la Bibbia dice egli credette e ciò gli fu messa in conto di giustizia quello che Dio ci vuole dire vai oltre i tuoi limiti i tuoi pensieri la tua condizione il tuo status quo dove sei adesso perché se non cambi il modo di pensare se non cambi il linguaggio se non sei disponibile noi continueremo periodicamente a fare sempre le stesse e medesime cose e non potremmo vedere la gloria scendere non potremmo vedere la manifestazione della sua presenza scendere nella chiesa nelle città nelle nazioni se tu stai sei venuto con la testa di rimanere fermo perché hai trovato la chiesa giusta sappi una cosa che non è la chiesa giusta per te perché questa è la chiesa dove Dio ti vuole formare per inviarti questa è la chiesa dove Dio ci prepara per andare questa è la chiesa dove sta portando il carico sulle spalle la responsabilità per tutte quelle persone che ancora non conoscono Gesù questa è la chiesa dove Dio sta preparando perché un giorno Dio manderà dove altri non vogliono andare dove altri non vorrebbero andare ma puoi andare solo ed esclusivamente se sei aggrappato se siamo pronti con la foto ti deve inviare non è stata inviata ancora sta processando qua non so cosa ci sia te la mando su Whatsapp a te ok scusate il tempo che vi sto facendo perdere ma ne vale la pena credetemi ne vale veramente la pena che ore sono le 22 ah 21 allora abbiamo tempo no no abbiamo terminato tu puoi andare se la tua relazione con Gesù è arrivata ok se la tua relazione con Gesù è come questa foto che ti mostro non vi dico dove l'ho fatta però abbiamo terminato ragazzi mi è costato infiammazione a quella cervicale ho preso fresco ieri ci siete sì ci sono sono bravi sono molto bravi ragazzi facciamo un applauso ai ragazzi che lavorano dai onoriamoli apprezziamoli che sono sempre che lavorano tra fare foto guardate Gesù si è piantata non si è più mossa si è preso si è preso il rinpovero ma non ce l'avevo contata vieni qua fatti abbracciare spegniamo le luci queste no vorrei chiedermi l'altra perché questa non si vede bene ok va bene così spegnimi queste luci qua per favore così si vede meglio vedete questo cos'è un tronco di un albero e gli alberi che erano vicino i rami che erano vicini si sono attorcigliati al ramo più grande tu non puoi staccare più questi rami qua dal tronco principale e io credo che questa deve essere la nostra relazione con Gesù il momento in cui noi spegni spegni il momento in cui tu provi spegni non accendi troppi complimenti abbiamo fatto nel momento in cui tu stacchi questi rami dal tronco principale si spezzano e il momento in cui noi ci distacchiamo dalla vita di Gesù siamo rotti per non essere finiti per non dire che siamo finiti quando noi siamo tutt'uno questo rappresenta Gesù questi siamo noi quando siamo accrappati con Gesù dove va Gesù andiamo noi dove andiamo noi c'è Gesù quando qualcuno prova noi possiamo provare a togliere questi rami e a staccarli dal ramo principale i rami si rompono non è il ramo principale che si rompe puoi togliere un po' di scoria dal ramo principale e può rappresentare il dolore da Gesù ma Gesù il ramo principale non viene rotto quello che si rompe è la parte più fragile che è la Chiesa siamo noi che non possiamo fare a meno di stare attaccati a Cristo Gesù e dovunque va il cristiano c'è Gesù dovunque c'è Gesù c'è il cristiano e questa rappresenta la relazione tra Cristo e la Chiesa laddove c'è Cristo c'è la Chiesa e laddove c'è la Chiesa c'è Cristo non puoi separare Cristo dalla Chiesa non puoi separare separare la Chiesa da Cristo per questo la nostra relazione deve essere così legata legami di amore questi rami sono innamorati sono attaccati all'albero della vita che è Cristo Gesù e quando tu sei attaccato all'albero della vita che è Cristo Gesù non hai paura non hai difficoltà perché sai che dove vai tu c'è Gesù sai che stai andando con Gesù sai che in mezzo alla tempesta c'è Gesù sai che in mezzo al fuoco c'è Gesù sai che nella fossa dei leoni c'è Gesù sai che nel fuoco ardente c'è Gesù sai che nella difficoltà c'è Gesù sai che nella penuria c'è Gesù consapevolizzi che in qualsiasi difficoltà provo tempesta ti puoi trovare c'è Gesù nella tua vita questo è quello che la Chiesa deve apprendere doveunque tu vai c'è Gesù con te i discepoli non avevano capito quello che Gesù aveva fatto i discepoli non avevano compreso il fatto dei panni e dei pesci quante cose non abbiamo compreso malgrado i miracoli che Gesù ha fatto nella nostra vita come può un cristiano distaccarsi da Gesù come può un cristiano dire io non ho bisogno di Gesù come può un cristiano dire io non ho bisogno della Chiesa la Chiesa e Cristo sono un'unica cosa legami la Bibbia dice di amore attorcigliati legami di amore questo è il rapporto tra Cristo e la Chiesa e quando la Chiesa ognuno di noi consapabilizziamo dove siamo attaccati e se siamo attaccati come questi rami sono attaccati alla vite all'albero centrale al tronco centrale tu non hai paura tu non hai insicurezza tu sei disposta ad affrontare qualsiasi cosa qualsiasi pericolo qualsiasi deserto qualsiasi nudità qualsiasi penuria qualsiasi difficoltà si possa abbattere contro la tua vita tu sei sicuro perché sei aggrappato a Cristo Gesù ma quando pensi che sei distaccato da Gesù quando vivi isolato da Cristo Gesù quando non preghi quando non mediti quando non vivi la tua vita il tuo rapporto con Gesù tu pensi di essere solo ma la Bibbia dice io non ti lascio e non ti abbandono amen vogliamo fare un applauso a Gesù questa sera vogliamo sgridare questo spirito di paura nel nome di Gesù mentre ci alziamo tutti quanti in piedi vogliamo sgridare questo spirito di paura mentre i cantori si preparano per fare un canto finale per lodare e innalzare Gesù facciamo quel canto pieno di te dobbiamo essere pieni di Gesù siamo pieni di Gesù vogliamo essere pieni della sua gloria e svuotati dalla paura dall'insicurezza vogliamo essere svuotati da ogni forma di insicurezza da ogni forma di paura noi nel nome di Gesù io questa sera prendo autorità su spiriti di paura spiriti di sicurezza demoni di paura io li sgrido di sgrido ora nel nome del Signore Gesù Cristo ordino che spiriti di paura lasciano ora la Chiesa nazionale nel nome del Signore Gesù Cristo che lasciano la vita dei credenti spiriti di paura di insicurezza di bassa stima di mancanza di autocontrollo nel nome del Signore Gesù io ordino che questi spiriti lasciano la Chiesa nel nome del Signore Gesù Cristo che scende nella Chiesa uno spirito di forza di coraggio di autocontrollo di determinazione uno spirito di fede nel nome del Signore Gesù Padre io ti chiedo questa sera manifesta la tua gloria la tua potenza nella Chiesa nel nome di Gesù Signore ti chiedo una Chiesa nazionale che cammina per fede che cammina sulla base delle tue promesse della tua parola Signore una Chiesa attaccata a Cristo una Chiesa consapevole della presenza di Cristo Gesù nella propria vita nel nome di Gesù Padre ti chiedo cuori infiammati appassionati per la gloria di Gesù Padre manifestati Signore la tua gloria nella Chiesa che la tua Chiesa risplenda che la tua Chiesa trionfi Signore in questo tempo di difficoltà che la Chiesa sia la luce nel nome di Gesù Padre manifesta la tua gloria Spirito Santo oh alleluia Signore riempici di te non vuole essere solo tanto un canto Signore non deve essere Signore non facciamo rito Signore non facciamo questo canto per abitudine ma Signore è l'espressione del nostro cuore che pronunciamo con le nostre parole non facciamo non facciamo non facciamo non facciamo Grazie a tutti